Ciao ragazze, benvenute al solito appuntamento settimanale del topo della settimana più usati come potete notare ho cambiato location semplicemente perché oggi fa un caldo allucinogeno e allucinante e quindi sto in faccia alla finestra sperando che mi arrivi un poco di aria per evitare di crepare infatti mi vedete anche in tenuta da casa con la maglietta da bimba minchia delle locchitti perdonatemi davvero, la mia dignità su youtube sta andando a farsi fottere in questo momento i capelli un pochettino ascellati, mi sono sparagnata di farmi il tupo perché se no ragà veramente facevo schifo qualcosa di improponibile e nulla, come sempre questo è un video in collaborazione con Federica, Deri Bruno qui su youtube ormai è superfluo dirlo perché siamo al tredicesimo topo e trovate sempre, come sempre, i link del canale di Fede, in info box dove potete trovare video in collaborazione con me allora inizio col farvi vedere i 5 prodotti topo e sono allora per la base principalmente o sto utilizzando, mi scuso per la luce raga perché non ho la luce quella lì bianca artificiale che si vedono bene le cose mica mi sono sbavata no si vede solo heroin in primo piano, quanto è bello questo rossetto comunque non ho la luce artificiale quindi non si vede un cazzo raga, ve lo dico già e però raga abbiate pazienza, non c'è, vedete, ma alcuna luce accesa perché io sto crepando di caldo in maniera allucinante proprio comunque sto utilizzando questo double face pondotint che ci credo in uno della collection professional è quello che mi vedete, non so quanto possa servire ve l'ho già mostrato in altri video è fatto in questo modo e è abbastanza coprente se per l'estate secondo me è un'ottima alternativa alla BB cream o al fondotinta minerali o quant'altro perché è bella compatta e pratica non state lì col pennello o con le polveri che svolazzano da tutte le parti io però applico sempre prima una crema idratante perché la mia pelle è secca quindi se vado ad applicare solo questo prodotto mi si fanno le crepe però mi ci sto trovando davvero bene come correttore sto utilizzando sempre della collection questo qui liquido ed è il numero 03 perché è un correttore abbastanza scuro l'altro giorno mi sono andata a fare una lampada quindi non si vede un cazzo raga però vi assicuro un pochettino mi sono abbronzata e di conseguenza non mi sono truccata in viso però ho notato che mettendo i correttori miei soliti si vedeva lo stacco tra il marroncino della faccia e il contorno occhi bianco ed è una cosa che è schifo proprio purtroppo c'è gente che esce proprio così come il fatto di facebook della cristiana con il rossetto bianco perla e il contorno labbra marrone c'è gente che esce con la faccia marrone il correttore per l'occhiaio è bianco cioè io qua personalmente a Salerno le vedo certe personaggi e quindi è una cosa insopportabile e schifosa da vedere e quindi sto utilizzando questo qui che è più scuro che ho in assoluto ed è quello che mi vedete comunque la differenza non si avverte proprio e quindi sono stati i miei due topini per quanto riguarda la mia base viso con questa qui della NYX che vi ho già mostrato nel top precedente ed è le shadow base della NYX la sto utilizzando davvero tutti 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 i giorni mi ci sto trovando divinamente è un ottimo prodotto che sicuramente quando termino la vado a ricomprare perché mi piace in qualcosa di allucinante cioè la metto sempre 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 mi piace perché uniforma bene la palpebra si asciuga subito mi piace perché fa saltare i colori degli ombretti e li fa durare davvero a lungo con questo caldo ho avuto modo proprio di vedere questa base all'opera e vi devo dire è ottima e poi ho usato la palettina di Lord Giller perché ho fatto davvero trucchi molto molto semplici raga per queste settimane c'è monocolore, molto freschi perché davvero non ce la faccio ho soltanto messo a volte le ciglia finte perché non ci trovo bene e poi basta mettere loro il trucco chissà che cazzo tenete addosso invece è un trucco molto molto banale e come base ho utilizzato sempre questo matitone qui di Essence il Big Bright Eyes che vi ho mostrato anche nel topo precedente però davvero lo sto utilizzando tantissimo che è una base beciolina è inutile che vi faccio gli sboccio noto perché non si vede un cazzo cioè tutti i colori sembrano uguali comunque è una base beciolina con delle perlescenze all'interno e io ci sono andata a tamponare su questo rosino qua il colore più chiaro di questa palettina che vi ho mostrato che ho comprato al banchetto magico per soli 3 euro ed è un'ottima ottima palette tiene dei colori davvero bellissimi troppo troppo belli e ho utilizzato questo rosino qua che è un rosa è un rosa un rosa è un rosa shimmer e nulla per i trucchi di tutti i giorni ho utilizzato lei anche molto pratica la mettevo pure in borsetta e me la portavo appresso quindi un ottimo ottimo prodottino e poi per quanto riguarda gli usati vi faccio vedere allora qualche giorno ho utilizzato quando si poteva mettere il fondotinta e prima che mi facessi le lampade la lampada ho utilizzato questo fondotinta della PIS che purtroppo non credo si troverà mai in Italia perché è una marca polacca che mi è stata data al Cosmoprofo ed è un fondotinta con l'olio d'argan ed è davvero un ottimo ottimo prodotto idrata moltissimo la pelle si assorbe subito non è pesante è davvero un ottimo prodotto e poi raga ha un odore di olio d'argan allucinante è buonissimo è davvero un ottimo ottimo prodotto ed è di questa marca PIS Lush Velvet non so se si può reperire da qualche parte però è difficile davvero un ottimo ottimo prodotto questa marca qui praticamente faceva tutti i prodotti all'olio d'argan infatti quando l'ho visto lo stand sono rimasta tipo sbigottita perché ogni loro prodotto c'era all'interno l'olio d'argan e dato che io amo l'olio d'argan non potevo non non provare questi questi prodottini poi vediamo un pochettino per quanto riguarda il blush sto utilizzando molto questo blush qui della Catrice che è tipo cremoso ed è un blush stick è di una collezione limitata che non mi ricordo uguale onestamente il C01 non so se è di una collezione limitata il packaging è fatto così l'ha mandato la mia amica Mara ed è stupendo è quello che mi vedete vabbè non si vede un cazzo oggi praticamente è un topo inutile perché come swatch cioè sentite solo una coglione a blaterare cioè io ma poi non si vede una minchia e comunque questo è il colore si sfuma benissimo vedete quindi dà un effetto davvero molto molto naturale mi sta piacendo tantissimo e lo sto utilizzando molto 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 perché comunque sto mettendo quella cipria lì se vado a mettermi pure un blush in polvere ho paura che mi si fanno le crepe in faccia e poi sto utilizzando sempre come base per quell'ombrettino lì di Lore Giller o qualche altro ombrettino chiaro comunque questi qua l'Ice Orbit della Essence questi ombrettini cremosi allora il primo è lo 0-2 lo 0-2 illuminating raspberry quello lì fatto con il rosa questo qui con il rosa perché questo qua lo fa in verde con il verde e con il giallo se non erro e poi un vecchio stay all day che tenevo di Essence quello lì rosa ed è lo 0-9 for fair che è questo rosa con all'interno glitterini oro e mi sta piacendo tantissimo come effetto sono un'ottima ottima base rendono l'ombretto anche più luminoso più dura il tutto in più perché comunque li vado a stendere come base mi sta piacendo e faccio cioè sono tutto tranquilla in 5-10 minuti il trucco è fatto non vi spiaccicate in faccia chissà quanti prodotti e state bene insomma allora io sto prendendo come una scrofa ve lo voglio dire giusto per arricchirvi e poi come rossetti sto utilizzando questi qui ho utilizzato questi qui in questa settimana il 405 degli I'm di Pupa che vi ho fatto vedere in ogni dove molto molto bello un bellissimo fucsia lo adoro il finish e sheer però dopo un poco diventa matte poi ho utilizzato il 52 di Barry M il dupe del candy yum yum che adoro anche lui stupendo preso su asos se vi può interessare per mi pare 5-6 euro e poi sto utilizzando questa lip varnish finish matte della cost che è di un bellissimo color il pantone ha un buonissimo odore ed è questa qui molto molto bella con questi trucchi semplici che mi facevo comunque esageravo con le labbra perché sennò davvero non sono io ed è davvero bellissima e poi vi faccio vedere tre matite due labbra e una occhi allora inizio con quella lì delle labbra perché vi faccio vedere allora a questo questa vernice qui matte contornavo le labbra con questa matita qui della Kiko per labbra della linea smart lip pencil la 708 che è un colore che si avvicina abbastanza alla tinta giusto per non sbordare mi serviva come guida diciamo perché comunque se andate a sbordare con una tinta del genere c'è inguardabile il risultato e poi come base per il candy yum yum cioè per farvi vedere per il 52 di Barry M è sempre una smart lip pencil la 714 che è un rosa baby proprio praticamente è quasi identico sembra chiarissimo ma in realtà non lo è è quasi identico al 52 di Barry M stanno molto 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 bene insieme infatti il rossetto tralasciando che dura tanto quello di Barry M comunque mi è durato più del dovuto in quanto ho messo come base su tutte le labbra queste queste matite qua sia l'antamat della cost che il rossettino di Barry M ultimo prodotto ma non per importanza vi volevo far vedere questo kajal della L'Oreal che già vi avevo mostrato in qualche altro video ed è stupendo davvero è il 504 turquoise è morbidissimo super super scrivente vedete di questo bellissimo azzurro intenso io lo utilizzo nella rima interna mi dura tutto tutto il giorno non si scioglie è qualcosa di fantastico veramente e ve lo stra consiglio questo qui me l'ha regalato sempre la mia amica Mara quando è venuta a Salerno che siamo andati al banchetto magico e Salvatore teneva tanti e tanti colori di questi kajal qui è davvero un ottimo ottimo prodotto poi quando lo indosso sembra che ho gli occhi azzurro verdi è qualcosa di fantastico tutti quanti me lo me lo dicono e quindi mi piace tantissimo questo prodottino qua e nulla ragazze questo è quanto vi mando un bacio fortissimo e ci vediamo prestissimo nel prossimo video ciao ragazze ciao a tutti